E ci troviamo presso il Lido Venere di Agropoli per la conclusione di un progetto molto interessante che ha visto coinvolte due associazioni del territorio che si occupano di persone speciali. Ecco ci sono stati quattro incontri dove queste persone speciali hanno imparato a fare la pizza, hanno capito quali sono gli ingredienti da utilizzare, infatti poi lo vedremo durante il corso della serata, ma facciamoci spiegare un po' più da vicino dall'Avvocato Spinelli che ha seguito i ragazzi insieme a Cinzia Matucci, ecco come è andata, quanto si sono divertiti e quanto ha funzionato questo corso, Avvocato? Grazie, io innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare i titolari del Lido Venere che hanno messo a disposizione la struttura e hanno dimostrato una solidarietà veramente grande per poterci consentire di realizzare questo progetto che è il primo progetto, speriamo che in futuro ce ne siano ancora altri e ringrazio anche l'amico Gian Maria, il pizzaiolo di professione che quando io gli ho detto della cosa da subito ha accettato l'impegno e ha accettato con favore ed è stato veramente uno degli artefici e collaboratori eccezionali. Abbiamo voluto, ringrazio anche la dottoressa, la nutrizionista Stefania, la dottoressa Stefania Buono che è intervenuta e ci ha spiegato un poco quelle che erano le caratteristiche della pizza, delle farine che venivano usate e delle eventuali patologie o intolleranze che si possono poi acquisire tramite un uso smodato della pizza, insomma se uno ne mangia in maniera diciamo più di una alla settimana, questo ce l'ha spiegato elegantemente lei. Abbiamo voluto con l'associazione Camminare Insieme di Cinzia Matucci fare questo progetto che l'abbiamo ritenuto molto importante anche sotto il profilo manipolativo diciamo per i ragazzi perché i due primi incontri sono stati degli incontri teorici in cui appunto abbiamo spiegato le proprietà, le caratteristiche della pizza, come è nata la pizza, abbiamo cercato di spiegare come è nata la pizza ma è abbastanza difficile diciamo perché varie sono le scuole di pensiero. E poi la terza e quarta serata qualificata come l'abbiamo denominata mani in pasta proprio perché i ragazzi si sono divertiti moltissimo e c'è stato un coinvolgimento straordinario dei ragazzi ed è stato per me è stato un evento straordinario, è stato un evento bellissimo che spero si rivederà nel tempo. È stato per sviluppare appunto le autonomie dei ragazzi per far sì che culturalmente loro possano insomma sentirsi un poco maggiormente integrati e che hanno interagito tra di loro e nei confronti insomma dei vari accompagnatori e tutto il personale della struttura che ci ha ospitato. Ma anche per verificare un poco diciamo quelle che erano le potenzialità di questi ragazzi perché io ho letto proprio qualche giorno fa di quattro ragazzi down che hanno aperto una pizzeria e questo mi ha dato proprio lo spunto per poter organizzare ripeto insieme a Cinzia Maducci questo progetto per far sì che questi ragazzi chissà che qualcuno di loro in queste potenzialità non le possa esprimere al meglio e quindi diventare non dico un grande pizzaiolo magari un grande pizzaiolo ma un pizzaiolo diciamo di una certa bravura che sarebbe una cosa eccezionale. E speriamo che questo sogno si possa avverare ma sicuramente ci sarà qualche campione ecco della pizza in questo gruppo di ragazzi. Cinzia nota le nostre telecamere di Cilento Channel e le più volte abbiamo ascoltato la sua voce per diversi progetti che anche lei sul territorio ha sviluppato appunto con questi ragazzi speciali. A me piace chiamarli speciali perché ognuno di loro ha qualcosa di speciale da donare proprio a noi tutti. E allora Cinzia il tuo punto di vista per quanto riguarda questo progetto? Diciamo che i ragazzi sono stati tutti molto partecipativi e tutti quanti hanno svolto questo corso con piacere, proprio con gioia diciamo come tutte le loro cose. Ogni cosa che noi facciamo, proponiamo i vari laboratori, le varie attività loro li fanno sempre con molta partecipazione e con il sorriso. Quindi io davvero li vorrei ringraziare questi ragazzi perché sono qualsiasi cosa, sempre super disponibili e partecipativi, ripeto. Ringrazio anche le famiglie che sono sempre veramente, mi supportano e sopportano diciamo e da anni ringrazio loro davvero perché sono sempre disponibili perché insomma il tempo di accompagnare eccetera, insomma loro sono sempre vicini, mi sono sempre vicino. Ringrazio anche io mi ripeto il Lido Venere che sono stati così gentili ospitali.